Di Grande Maurizio, un servizio funebre che sostiene con discrezione. Se desiderate essere assistiti con riservatezza e gentilezza nel momento di maggiori difficoltà, come la perdita di un caro, potete rivolgervi alla nostra agenzia funebre, per essere certi di poter contare su personale discreto. Realizziamo servizi funebri con una grande varietà di prodotti funerari, quali bare, arredi sacri e composizioni floreali tra cui poter scegliere. Ci occupiamo degli adempimenti burocratici e legali, affissioni degli avvisi di lutto, ringraziamenti e partecipazioni.